Non è passato di certo inosservato alla comunità fanese il brutto gesto di alcuni giorni fa sull'atto vandalico avvenuto nella notte del 28 luglio intorno all'1 e 20 nel sottopasso del Lido di Fano dove un ventenne ha distrutto a calci come potete vedere da queste immagini i murales realizzati dagli studenti dell'istituto Nolfi Appolloni di Fano, ragazzo poi identificato e denunciato attraverso un lavoro minuzioso e di ricostruzione da parte della polizia locale opere installate nel giugno del 2021 grazie alla laboriosità degli alunni che hanno reso questo tratto più colorato e vivace proprio oggi il sindaco Seri ha voluto rimarcare questo comportamento inaccettabile e l'aiuto prezioso delle telecamere installate su tutto il territorio cittadino tra cui anche nel sottopassaggio Chi si macchia di questi episodi è un idiota, lasciatemi dire il termine perché fare questi gesti gratuiti senza alcuna ragione sono proprio comportamenti stupidi che non fanno onore a questi ragazzi che li commettono questo sta a dimostrare che, e questo deve essere un messaggio chiaro, che chi si macchia di questi reati perché di reati parliamo non passa impunito per cui saremo severi perché non esiste alcuna giustificazione che possa reggere comportamenti di questo tipo allora un messaggio chiaro che vorrei dire la città sotto questo aspetto ha un sistema importante un ringraziamento alla polizia municipale che ha fatto un lavoro importante che ha Pilari che monitora costantemente tutto questo sistema ovviamente lasciatemi dire, però anche questo è importante che non può esserci solo un lavoro di oppressione, di controllo importante che deve esserci, ma deve essere accompagnato specialmente se parliamo di comportamenti di adolescenti e di giovani anche delle politiche sociali, di accompagnamento ed educativo e di responsabilizzazione sulla quale ci stiamo impegnando e stiamo ragionando La conferenza di questa mattina è stata l'occasione anche per ribadire l'importanza degli impianti di videosorveglianza ben 80 ai dispositivi attivi sull'intera città che hanno agevolato alcune ricostruzioni e operazioni importanti degli agenti di polizia locale di Fano e delle altre forze dell'ordine notevoli i numeri dall'inizio dell'anno 2023 ad oggi Le telecamere sono state determinanti anche nell'individuazione la restituzione di oggetti, uno degli ultimissimi casi è stato il furto di un Rolex che è stato restituito al proprietario Voglio ricordare che a fianco delle telecamere ci sono importanti controlli su tutti i quartieri da parte del nostro corpo di polizia locale sono centinaia i controlli dall'inizio dell'anno vado velocemente a dirne alcuni 181 quelli del Pincio e zona Porta della Mandria 184 nel centro zona verso Pesaro, lato nord 102 zona centro storico norfi sud per intenderci oltre 200 quelli del mare 200 quelli verso Fano sud c'è un'attività importante nella zona del Poderino di controllo di alcuni parchi e tutta questa attività di presenza della polizia locale ha portato ad identificare dall'inizio dell'anno quasi 3.000 persone A queste cifre poi si aggiungono i 20 controlli a edifici e case abbandonate al contrasto di stupefacenti con 6 persone identificate e anche 3.100 verifiche su veicoli di cui 193 senza assicurazione e 132 sequestrati di cui 204 sta per intenderci e anche 4.500 persone